3, 2, 1, GO! Buongiorno ragazzi e ragazzi oggi siamo ritornati qui con un buonissimo video questo video si tratta del video scioglilingua si scioglilingua, perchè scioglilingua? perchè sta il nostro padre fuori e fuori dietro alla telecamera che ci dirà degli scioglilingua ci dirà delle frasi da scioglilingua e noi le dovremo dire velocemente abbiamo delle possibilità a ogni frase e chi vince vince chi perde fa la penitenza e anche voi da casa dovete giocare quindi 3, 2, 1, GO! iniziamo! allora iniziamo con uno classico semplice lo dico per sempre piano 3 tigri contro 3 tigri 3 tigri contro 3 tigri 3 tigri contro 3 tigri no hai detto 3 tigri no vai 3 tigri contro 3 tigri vai 3 tigri contro 3 tigri 3 tigri contro 3 tigri i tuoi lo rendete no dai loivid lo buono chi 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 sa che la posta la mia vabbè la puoi ridire non l'ho capito vabbè l'ha perso giù vai avanti devi capire tigre intriga tigre ah tigre intriga tigre intriga intriga tigre intriga gitta intriga tigre intriga tigre 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 in tigre, tigre in tigre. Anche, non lo capisco, non lo ascolto. Allora, tigre... no. Tigre in tigre... tigre in tigre... tigre in tigre... No, non la tigre tigre, sbagliato. Allora, tigre in tigre in tigre. No... tigre in tigre... tigre... no. tigre in tiga tigre no no la tigre che con animale è la tigre tigre in tiga tigre 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 no tigre è sbagliato allora tigre in tiga tigre tigre e tigre tigre in tiga tigre ho vinto io veramente no sopra la banca la capra campa sotto la banca la capra crepa inizia giura sopra la banca la capra campa no sopra la banca campa ripeto sopra la banca la capra campa sotto la banca la capra crepa vado sopra sopra la banca la capra campa sopra la banca la capra campa sotto la banca la capra crema ah crema per poco no crema è tutto crepa crema hai detto dopo lo ripeto vai 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 sopra la banca la capra campa sotto la banca la capra crepa ok sopra la banca la capra campa dai sull'ultima volta vai sopra la banca la capra campa sotto la banca la capra crepa no dai diciamo che ho vinto io dai un'ultima no 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 ho vinto io no l'ultra 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 e fra 怎麼了 allora찮'ما la faccia qua dai eva eva dava luva a dava ava dava luva a deva nooo allora eva dava luva a dava 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 lupa a deva quanto c'è allora dai questo lupo aveva dava luva ava dava luva a deva deva a dave lupa a dava Eva o Deva? Eva dava, lua 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 dava lua dava, lua dava lua dava ma lo puoi stare tutta qua, vediamo un po' facciamo quella la che conosciete voi, la pelle figlio da pollo si si io a pelle figlio da pollo faceva una palla di pelle di pollo tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo di a pelle figlio da pollo no fatta la pelle figlio da pollo e va be io la faccio così a pelle figlio da pollo faceva una palla di pelle di pollo tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta la pelle di pollo allora a capo a pelle e fio a pollo face una palla di pelle di pollo tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta la pelle di pollo a pelle e fio a pollo face una palla di pelle di pollo a pelle e fio a pollo face una palla di pelle di pollo tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta la pelle di pollo io 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 a pelle e fio a pollo face una palla di pelle di pollo Tutti i pesci vengono a galla per vedere la palla di... eh... di bollo Tutti i pesci vengono a galla per vedere la palla di pelle di bollo fatta da pelle Che va beneillingo si venne a gara per vedere la palla sveglia del pollo fatta la pelle e piglio la folla ok bravo dai diciamo che ho vinto io perchè ho fatto due punti ragazzi allora scrivete voi giù nei commenti appunto se chi ha vinto e chi ha perso chi avrà perso farà la penitenza in un prossimo video non sappiamo quale, non sappiamo quando ma si deciderà la penitenza e la faremo e basta anche una live ma quando mai quindi 3 2 1 quindi ragazzi questo è il video sperate vi è piaciuto iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii ci saranno tante foto su facebook marghe giulia kawaii real ci saranno tante informazioni sul secondo canale marghe tv ci saranno tante video piccine di quando eravamo piccine piccine su musicali ci saranno tante video ci saranno tante musicali con tante cazzone pop e se volete le maglie ricovera le tazze di tantissimi colori ma ho mancato youtube e se hai diversissimi colori andate su www.marghe giulia kawaii.it e su youtube ovviamente è marghe giulia kawaii e ragazzi se non vi è piaciuto lasciatela commentate condividete e iscrivetevi al canale se non vi è piaciuto shhh iscriviti al canale iscriviti al canale a